E' stato un omicidio seguito dal suicidio del responsabile, un delitto forse premeditato e non originato da un momento di ira. Il marito della vittima aveva con sé una corda che poi ha usato per impiccarsi nella rimessa dopo aver soffocato o strangolato la moglie Maria. A parlare è il sostituto procuratore della Repubblica Giovanni Narbone, titolare dell'inchiesta sull'uccisione di Maria Cegolea, Moldava, 42 anni, e del suicidio del marito Andrei Cegolea, di 47 anni, Moldavo, Anchegli e di professione operaio, avvenuto intorno a mezzogiorno di ieri nell'appartamento della donna in via Chiaramonti, quartiere di Santa Veneranda. La moglie Maria, di 42 anni, faceva lavori saltuari anche come badante e ai parenti la donna avrebbe confidato più volte le violenze subite dal marito geloso e del quale aveva paura. Per questo aveva deciso di separarsi pur senza denunciarlo. Le figlie della coppia, di 23 e 14 anni, in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze in Moldavia. Le due ragazze, infatti, si sarebbero allarmate quando ieri hanno tentato di contattare telefonicamente più volte la madre, senza però riuscirci. A quel punto hanno chiamato dei cugini che sono andati in via Chiaramonti e hanno trovato il corpo della donna riverso in bagno, vicino a una finestra. La donna, secondo quando stabilito poi dal medico legale, era già morta da molte ore. Il corpo dell'uomo è stato trovato dai carabinieri durante un sopraluogo nei dintorni della casa. Il cadavere di Andrei Cegolea, che si è impeccato, era in un capanno usato come un garage. I coniugi erano separati da circa un anno per le violenze e la gelosia dell'uomo, ma questi ha continuato ad avere le chiavi dell'appartamento della moglie. La separazione era solo di fatto, ma non era ancora stata presentata in tribunale, perché pretendeva di vedere ogni giorno la figlia quindicenne, mentre la ventitreenne lavorava con lui in una fabbrica di mobili. La moglie accettava che Andrei entrasse ancora in casa, ma voleva preferibilmente che fossero presenti le figlie. La figlia Nadia, raggiunta al telefono, ha dichiarato agli inquirenti che il padre voleva tornare a vivere per 15 giorni di vacanza dalle figlie, nella casa con la madre, ma lei si era rifiutata mettendolo alla porta. Aveva paura della sua irraggionevole dovuta alla gelosia. Già molte volte era stata picchiata senza mai presentare denuncia. E così sabato Maria aveva messo alla porta il marito, dicendo alla figlia al telefono che lui non era per niente contento. Poi, il giorno dopo, l'omicidio. Andrei è arrivato in tarda mattinata a casa. Non c'erano altri inquilini perché al mare. È scaturita la lite, gli schiaffi, la spinta nel bagno della donna e il soffocamento con un asciugamano, probabilmente perché Maria chiedeva aiuto. Poi Andrei è uscito di casa, ha preso la corda che aveva portato con sé e si è impiccato nella rimessa a pochi metri dalla casa, senza lasciare un biglietto o una spiegazione, ma era già tutto chiaro. Domani verrà effettuata l'autopsia sui corpi da parte della dottoressa Loredana Buscemi dell'Istituto di Medicina Legale di Ancona.